Che cos'è un ninja? Uno che crede nella giustizia, che non arretra davanti al pericolo e che combatte anche quando le condizioni sono le più avverse, che ricerca il bene e combatte il male. E soprattutto è uno che mai si sognerebbe di andare a fare shopping in centro per comprarsi vestiti alla moda e trucchi glitterati come fanno tre sgallettate di una celebre sigla dei raggi fotonici. Che cos'è? Che cos'è un brutto giorno non si possa cambiare mai, basta poco e ti puoi divertire. Apri gli occhi, non mi vedi, io sono qua. Apri gli occhi, nessuno è un'altra meccanimenti. Che cos'è? Apri gli occhi, metteremo sotto sopra la giga, va va. Apri gli occhi, non mi dire che non ti va. Sono una supercala e quando anche non volo, ma comunque senti in testa posso realizzarlo. Non so più come diterlo. A più, a più, a più, a più. E amiche di me credono fuori di testa, a volte sono triste dopo faccio festa. Ma non mi arrendiamo mai, 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 mai. Grazie a tutti.